questo fino a che non libero la prigione c'è poco da fa allora penso che questa è la messa qui che stai detto che stai detto come c'è un bel pietro sei che stai vedi 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 un trugolo bimbo eh ma se ti posso portare a lei ma cosa ti servono oddio ne ho cambiato non mi dici lo fa capelli eh ah dai scusate fammi un pochettino vedere non mi dici che devi fare la permanente perché non ci credo ho capelli grazie SON Harold's got some amazing hair the mummies has improved yes but it's dull flat stringy lacks body and control whereas Harold's flows and bounces with every subtle turn of his head yes Harold wins if only the mummies was a little bit better No, allora, io c'ho in mente una cosa, è un'assurdità Che devi fare la permanente con la forchetta, ma non credo proprio Però tanto sto gioco è assurdo, cioè Ma stiamo scherzando Ma è schifo Allora, al giudice non penso li puoi raccogliere Vediamo se il sorriso l'accetta Vediamo un pochettino se almeno il sorriso me l'accettano Se è buono Allora, ovunque vado c'è quel test a lampadina Che combina guai Forse l'inchiostro, ma È vero Te lo auguro per te Perché mi puzza il fatto? Magari lo devo Devo in qualche modo levarmelo di torno Vediamo un po' Oh, Harold, è gross What are you babbling about? You really should have told the judges if you weren't feeling well Oh, ick Now, how did that mess get in there? I think I'm going to be sick Someone in here not feeling well I was feeling fine until I saw that Is that your regurgitation? No, I'm an OC human Didn't you just say you thought you were going to be sick? That's just a figure of speech Do you realize you could have infected the whole show with human influenza? Human influenza I just got all my shirts You're a good looking human, Harold But you know the rules You're out of the show What a mess I hate cleaning up after humans Quella bava lì della ventosa è schifo ragazzi C'è Trugoli uno più dell'altro Ora, teoricamente Dovrebbe avere campo largo Eh! Don't you think you should judge best hair again? Oh, alright showculanti guarda il sorriso I like the quiet one with the big teeth. There's nothing in the rules about them being white. First place goes to the mummy. Agreed. Cosa è rimasto? L'ha ri... Aspetta! C'era! Cos'è che rideva? Ehm... Il clown? Può essere? Può essere clown? Cosa è una? Che malavorie! Come... Come... I'm not so sure that's a good idea. E' dentro il... dentro il pagliaccio quindi devo trovare qualcosa per scoppiarlo. La pistola forse le devo da fuoco. I don't think that's the weapon of choice. Hey! It's not a toy! Laverna ha qualcosa? Bucarlo con la forchetta? Oddio il bisturi! Forse è il bisturi! Ok... Ehm... Ehm... I don't know... Ehm... 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 a posto abbiamo entro il concorso ok who's got a joke hey i just flew in from baltimore and boy are my suction cups tired oh classic it's amazing how the mummy can do that without moving his lips i say we give him first place agreed well that makes him best of show let's go congratulate him he is very well preserved i'll miss his laugh it's time to give him his winnings and start packing up we gotta get this whole show to baltimore by thursday yes our work here is done figurati well ted this is where we part ways you've certainly helped save humanity even though you've been dead for thousands of years i think you're my my favorite edison figurati what do you do what do you do for the trophy oh dinner for two at club tentacle the one does a jew what do you do the one does a jew the one does a jew the guard E questo è quanto? Allora si va giù, no, è dall'altra parte. Ora, a lui sicuramente... Wow, dinner for two at Club Tentacle? I can't wait to tell my wife. You're free. Free to do what? Free to... to... run wild through the woods like humans should. Big deal. I said you're free. Now get off your fat lazy butts and start enjoying it. Enjoy being hunted for the rest of our lives by that mustache-told tentacle with a big net. If we ran off, he'd be right on our trail. If we stay here, we know we'll be warm and comfortable. Outside, we'd be eating bugs and moss. You'll be eating my fist in a second. The woods are filled with wild animals, lions, tigers and skunks. Man, I hate skunks. Ecco come si fa. E si sblocca l'orologio. Hey, look. A skunk. Come back here, you mangy humans. You can't do this. This is an escape-proof facility. Who says you can't learn anything from cartoons, eh, kitty? I think I've had enough fun with Mr. Kitty. Ok, lui non mi serve più praticamente. E ora c'ho l'orologio tutto per me. Ok, qui c'è la prolunga. E ora? It's the same generator that was in Dr. Fred's lab. Mi serve il cliché to? Come cazzo? E come ci lo porto quel cliché to? It's beyond repair. Good riddance. Allora, chi è che ce l'ha il cliché to? Dove fa' qualcosa qui? Fermati però. Un'altra cosa che devo fa' con lei. Ok. La lavanderia? L'avevo messo a asciugare il maglione? No. Qua. È pericresceto? Ma come cazzo? Qualcosa che deve essere tipo con le... Allora, nel gabinetto? Aspetta un attimo. No, aspetta non me lo dire. Ho un flash bruttissimo. 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 sembra che c'è alcun tipo di rodentino qui mi viene anche un altro flash, può scommettere no, non ho parole io veramente bello spero che questo non sia come i migliori migliori ovens dei miei centri queste cose potrebbero essere davvero potrebbero essere davvero bene buon uh oh Questo è divertente, ma solo perché questo è il 22 secolo. Sì, ragazzi che mettano i hamsteri e i microwaves dove sono andati, si sono andati da loro parenti, e si sono andati per l'adoptione. Quindi non lo faccio. Ma la gomma? Che cosa serve? Che non l'ho ancora capito. Non credo così. Ha stato in cuore di qualcuno, probabilmente Bernard, con le mark di occhi. Non credo che posso aprire. E ora va sotto. No, ho sbagliato. Cosa ci devo fare col cerchione? Cosa ci sono? Cosa ci sono? Cosa ci sono? Vabbè, dai, queste facile. Usa aspira polvere. Queste facile. Queste faciliare a usare di un altro tempo, si voglio fare. Buti, Cominato. No need for a hubcap there, just like most places. But it's all hooked up outside. I don't think so. Scusami eh. Ok, l'averne è fatta. Ora manca Ugi e Bernard. Anzi manca Ugi e basta. Non è che il cerchione serve, invece che la forchetta serve il cerchione a Ugi? Non lo puoi mettere? Non lo puoi mettere? E tanto il cerchione non serve qui. Non lo puoi mettere il cerchione. 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 Grazie a tutti.